Lo sportello del cittadino è a San Vito Taranto, Viale Ionio, nei pressi di quello che era il parcheggio Grandi Eventi, la prima curva per capirci. Siamo con la Presidente dell'Associazione Taranto Turismo, la dottoressa Irene Lamanna. Questa zona è stata ripulita, bonificata dall'AMIU circa un mese fa, ma i soliti incivili hanno ripreso ad abbandonare i propri rifiuti e quindi purtroppo ci troviamo dinanzi ad una discarica a cielo aperto. Noi in genere critichiamo le istituzioni, però diamo atto dell'impegno dell'AMIU. A fronte di questo impegno l'inciviltà e i danni conseguenti. Indubbiamente. Diciamo che l'amministrazione Melucci non si sta distinguendo per eccellenze in questo periodo o comunque sin da quando si è insediata. Però è ovviamente da riconoscere una nota di merito all'AMIU che con tutto il suo staff si sta impegnando per portare nuovamente ordine al territorio perché, come molti di noi si accorgono, era cresciuto un po' di verde in tutta la città. D'altronde, ritornando una piccola parentesi, una chiusa sull'amministrazione comale in zone centralissime, vediamo i marciapiedi ricoperti di erbacce, forse la foresta urbana. Ebbè sì, ci adeguiamo all'incoming turistico degli immigrati e quindi li mettiamo a loro agio. Questa è chiaramente una battuta perché c'è il totale rispetto da parte mia nei confronti di questa gente che comunque è talvolta in stato di necessità e di bisogno. Però, per quanto invece riguarda i tarantini, forse sono un po' più indigeni loro delle persone che noi accogliamo. Perché? Perché chiaramente non si rendono ancora conto che il primo dovere di ogni cittadino è quello di rispettare il proprio territorio utilizzando le aree apposite per i depositi dei rifiuti. Diciamo, Irene Lamanna, che ha mali estremi, estremi rimedi. La zona andrebbe così controllata meglio, anzi controllata proprio dalle forze dell'ordine in generale, forze di polizia, vigili urbani, carabinieri e quant'altro. Probabilmente la sera, nelle ore notturne avviene l'abbandono dei rifiuti, dico per dire, penso, perché ovviamente quella è un'ora un po' più sicura per fare certi atti criminosi, io li definisco. Però, ripeto, un controllo continuo, continuo o comunque sistematico, continuo sarebbe l'optimo, ma impossibile, sistematico, occorrerebbe. Penso a delle misure tipo le telecamere, cioè tutta una serie di deterrenti per evitare che un lavoro di bonifica dopo pochi giorni venga completamente così cancellato, mortificato. Beh, per quello che riguarda le telecamere, in questa zona sono state poste e sono state anche utilizzate, però purtroppo ci sono dei meccanismi di ricorsi ai quali molto spesso il cittadino fa ricorso e quindi se ne sminuisce l'utilizzo. La maledetta privacy ormai è diventato un fatto quasi impeditivo. La privacy che sta fomentando le attività criminose e aiutando le attività criminose. Diciamo, il turista vuole un minimo di accoglienza e chiaramente certe immagini così di degrado non lo attirano affatto, non hanno assolutamente appeal purtroppo. Assolutamente no e poi ovviamente ci dobbiamo raccogliere e tenerne il sacco le critiche fatte dal ministro del turismo sul territorio Taranto che personalmente mi hanno assolutamente indignato. È stata un'offesa gravissima che come cittadino tarantino, come albergatore e come operatore del turismo non mi sento di... È sembrato quasi sbeffeggiare i tarantini. Assolutamente sì, Tarantini è il territorio, territorio che regala a livello turistico molte soddisfazioni, tarantini e operatori che si stanno impegnando sul territorio per la rinascita del territorio stesso e quindi tacciare Taranto della città della morte non è sicuramente, per quanto ci siano problemi in Italia, a Taranto come in Italia, perché l'Italia in Europa non eccelle per il suo inquinamento o forse eccelle per il suo inquinamento. Evitiamo che dei corregionali, perché mi sembra di capire che il ministro sia un personaggio della nostra regione, possano criticare il nostro territorio sbeffeggiandoci a livello nazionale.